Buonasera, sono Lorenzo Pasqualini, matricola 261691, iscritto al corso di scienze delle attività motori preventive ed adattate all'Università Telematica San Raffaele di Roma. Per quanto riguarda l'attività di tirocinio didattica alternativa compensativa per il tirocinio, per il mio corso di studi ho avuto il piacere di avere come tutor e collaboratore Cristian Santori, dottore laureato nel 2016 con una laurea magistrale in scienze tecniche dello sport presso l'Università degli Studi dell'Aquila con valutazione di 110 e lode. Precedentemente si è laureato alla triennale in scienze delle attività motori e sportiva presso l'Università degli Studi di Chieti Pescara. Inoltre ha conseguito il patentino nel 2018 come preparatore fisico professionista presso il settore tecnico di Coperciano. Al momento il tutor svolge il ruolo di preparatore fisico atletico nella società direttantistica SSD Porto Dascoli, militante nel campionato di eccellenza. precedentemente ha lavorato in diverse società tra cui la San Benedettese, il Nereto Calcio sempre in eccellenza, il San Marco Servigliano nell'eccellenza marchigiana, il Gubbio ed infine il Porto Dascoli. In virtù del suo attuale impiego si è deciso per questo percorso di tirocinio di valutare alcune metodologie di allenamento specifiche per l'efficienza ed il miglioramento della condizione e della qualità fisica di una squadra di calcio direttantistica, appunto il Porto Dascoli. Inoltre si andrà a valutare un percorso riabilitativo di un atleta infortunato ed il suo reinserimento nel gruppo squadra, valutando i tempi di recupero e la condizione fisica del ragazzo. In particolare si andranno a valutare quattro differenti casi di studio e nello specifico questi quattro casi riguardano la programmazione e la valutazione di diverse sedute specifiche di forza muscolare riguardante i calciatori di lettanti appunto del Porto Dascoli. Nel secondo caso si andrà ad analizzare la programmazione di diverse sedute di allenamento basale sul miglioramento della capacità e della potenza aerobica. Nel terzo caso di studio avremo una programmazione di un percorso di recupero e riattretizzazione e reinserimento nel gruppo squadra di un calciatore a seguito di una lesione muscolare di secondo grado al bicipite femorale e nel quarto caso andremo ad analizzare la differenza di programmazione tra un microciclo settimanale senza partita causa emergenza covid. È da ricordare come il campionato di eccellenza marca è stato sospeso gli allenamenti potevano essere fatti solo mantenendo la distanza e senza il contatto con il compagno e un microciclo settimanale quindi una settimana tipo di allenamento con la partita in programma la domenica. Dopo questa presentazione andremo ad analizzare con il tutor i casi scelti ma prima volevo porre alcune domande al tutor innanzitutto volevo chiedere lo ringrazio per la disponibilità che ha avuto con me per questo lavoro e volevo chiedergli eh al tutor una visione su come intende il rapporto calcio preparazione atletica senza palla e volevo sapere se eventualmente eh la preparazione fisica generale di un calciatore è cambiata negli ultimi anni. Allora eh va bene la mia brevissima esperienza eh partendo sia dalla formazione per poi diciamo tutto quello che ho potuto provare e confrontarmi sul campo posso dire che negli ultimi anni la preparazione è cambiata radicalmente ehm innanzitutto per un approccio più integrato del lavoro cioè eh le varie aree che prima più uscisse in maniera netta come l'area fisica l'area tattica e l'area tecnica adesso soprattutto nel periodo della stagione quindi in cui c'è l'impegno settimanale viene affrontato in maniera integrata a trecentosessanta gradi e questo si è visto eh nell'ultimi negli ultimi anni grazie anche alle tipologie di valutazione quindi in tempo reale sia per quello che riguarda il carico esterno sia per quello che riguarda il carico interno e tutto quello che poteva eh rappresentare eh le tipologie di di capacità a livello condizionale legata al modello prestativo cioè mentre prima magari l'approccio era più generale riguardo in se per sé l'atleta adesso a mio avviso quello che ho potuto notare quello che anche a livello eh di esperienza mi apportano maggiori risultati eh legato soprattutto allo studio del modello prestativo quindi sempre a servizio di quello che è l'allenatore quindi eh non più vedere l'atleta in maniera oggettiva tutti quanti i giocatori magari indipendentemente dal eh tipologia e dalle componenti psicofisiche e dal ruolo ma eh una differenzazione netta quindi sia riguardo alle caratteristiche individuali quelle che possono essere appunto i punti di forza o magari i punti tra virgolette deboli del dell'atleta del calciatore sia per quello che poi andrà a fare all'interno del modello di gara e all'interno del piano tattico e strategico dell'allenatore quindi la differenzazione dei ruoli eh anche lo sviluppo vero e proprio delle diverse fasi di gioco e perciò eh detto questo è imprescindibile non eh effettuare lavori integrati lavori in collaborazione con l'allenatore e tutto quello che magari prima era eh il nocciolo della seduta quindi il lavoro a secco per quello che riguardava la preparazione fisica adesso c'è deve esserci o per quello che riguarda la mia visione della preparazione o comunque dell'aspetto performante ci sarà sempre però sotto un approccio più integrativo quindi tutto quello che magari eh non può essere raggiunto per mille motivi durante esercitazioni integrate e quindi si va a sommare diciamo o per quello che magari può riguardare delle esigenze individuali di un giocatore che come nel caso di un giocatore che rientra da delle problematiche particolari un giocatore che magari ha delle esigenze o culturalmente viene da eh abitudini specifiche che è difficile magari cambiare o comunque anche per migliorare o per sviluppare per quanto riguarda il settore giovanile determinate componenti in maniera più eh semplice e in maniera più eh concreta possibile diciamo credo di aver fatto una cosa generale però eh diciamo che la parte a secco rimane sempre per quello che mi riguarda magari assume eh delle delle percentuali rispetto a prima più basse ma solo per il fatto che eh si riesce attraverso una programmazione attraverso una cultura eh calcistica quindi anche degli staff a crescere anche dal punto di vista del eh creazione dell'allenamento e della seduta vera e propria quindi anche magari in categorie come l'eccellenza che fino a qualche anno fa eh diciamo che era difficile adesso grazie al tipo di calciatori che cominciano a frequentare queste categorie ai tecnici comunque sempre più preparati aggiornati eh quasi tutti hanno uno staff tecnico quindi che consente di eh un'organizzazione una logistica più una logistica migliore eh secondo me la la preparazione fisica non è che è cambiata ma ha avuto ha fatto un passo in avanti si è evoluta quello che riguarda la struttura degli allenamenti la performance in sé per sé perfetto chiarissimo ora riprendendo anche il discorso che che abbiamo accennato le riguardo le pongo delle domande riguardo proprio i casi scelti di questo tirocino e cosa ne pensa di della scelta di questi casi fatta insieme al tirocinante se ci fa un resoconto generale eh andando a prendere in esame i quattro i quattro casi scelti e quali sono i risultati attesi insomma poi prendendo ogni singolo caso in esame beh come hai detto prima i quattro casi vabbè le spiegati benissimo tutte le varie categorie per quanto riguarda le prime due diciamo lo sviluppo degli aspetti muscolari e della potenza aerobica magari della resistenza eh secondo me era una scelta diciamo fondamentale obbligata perché sono due delle capacità che influenzano in maniera specifica e speciale la performance di un calciatore quindi eh a mio avviso eh sono determinati per quello che riguarda un'analisi più eh approfondita e specifica degli allenamenti per quando riguarda la riazionizzazione di un calciatore in questo contesto in questo periodo eh assumeva ancora più importanza perché eh indipendentemente dalla sosta di quest'anno nel campione d'eccellenza c'è anche da ricordare che nella scorsa stagione c'è stata un'interruzione a febbraio quindi eh parliamo di calciatori non professionisti che nell'ultimo anno negli ultimi nove mesi prima di ripartire con questo almeno nella nostra regione con questo mini torneo avevano disputato cinque partite quindi addirittura qualcuno anche meno e perciò eh c'era il rischio c'è stato perché comunque eh diverse società diverse squadre hanno avuto problemi legati a lesioni muscolari e perciò anche la riazionizzazione e anche tutto quello che riguardava il tempo e la gestione perché diciamo che non parliamo di un campionato quindi per l'inserimento dove era abbastanza era abbastanza forzato perché comunque sia la disponibilità giocatore in queste categorie che dove le rose che non parliamo di rose di trenta giocatori ma di rose ancora più ristrette risultava fondamentale mentre per il confronto tra due mh tra le due programmazioni eh sì sì il quarto caso tra i due mesocicli che poi anche nel dettaglio i microcicli abbiamo visto settimanali del del periodo in cui c'è stato appunto eh il covid e perciò tutti i protocolli sanitari e nazionali imponevano delle direttive specifiche per la programmazione degli allenamenti è stato anche una cosa strana è una cosa che non so se rivedremo più anche in termini di di stagione sportiva quindi di programmazione ed è stato anche particolare per chi come me lavora appunto negli sport di squadra perché magari è una cosa più comune negli sport individuali preparare per un lungo periodo per poi fare l'evento clou mentre nello sport di squadra dove c'è un impegno settimanale passare sei mesi solo ad allenarsi per poi giocare due mesi era un contesto diverso un contesto particolare dove appunto è stato anche stimolante confrontarsi e e per programmare e vedere appunto le differenze tra queste due tra questi due programmi dove oltre all'aspetto fisico anche l'aspetto psicologico dei calciatori che appunto vivono appunto per la per la domenica per la partita è stato importante gestire quindi il carico diciamo il carico allenamento non comprendeva solo l'aspetto numerico l'aspetto condizionale ma anche quello neuromoteo neuromotorio secondo me è stato molto importante da da ponderare da considerare e riaggaggiandomi appunto a quest'ultima cosa che ha detto del quarto caso eh beh è chiaro come il il periodo dell'emergenza covid ha influito eh ne ha parlato lei in maniera in maniera chiara anche da un punto di vista possiamo dire eh psicologico ricordando facendo una premessa che come ha detto lei l'eccellenza è un campionato dilettante quindi la maggior parte dei ragazzi cioè chi lavora chi studia non è il calcio la cosa principale quindi volevo se secondo lei ha notato una differenza comunque c'è dovuto essere anche un lavoro da quel punto di vista insomma ora diciamo che secondo me eh alcuni calciatori hanno sofferto particolarmente eh appunto l'assenza della 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 partita dal nostro punto di vista come staff tecnico che poi tra l'altro anche subentrato eh abbiamo cercato un attimo di girare al nostro favore questa situazione in cui non conoscendo magari calciatore non avendolo portato cioè non avendo portato questi calciatori dall'inizio della stagione ci siamo concentrati su quello che poteva essere il ripristino di una condizione generale che potesse sopportare eh nell'imminente futuro la la performance quindi esercitazioni più speciali specifiche e magari concentrarci anche su quello che poteva essere eh i punti deboli di ogni calciatore e da lì abbiamo notato che comunque eh allenamenti di questo genere potevano eh sovraccaricare dal punto di vista nervoso ma soprattutto per un discorso di monotonia non tanto per un discorso di stress in sé per sé perché alla fine avevamo anche la possibilità di allenarci di uscire quindi rispetto a tanti altri che magari non potevano neanche una cosa del genere perciò sì è stata abbastanza particolare diciamo è stressante per me no per i giocatori qualcuno ha sofferto questa cosa ma più che altro è stato solo un discorso di mancanza di di palla di mancanza di dell'aspetto ludico e dell'aspetto motivazionale per la partita di domenica certo e prima di analizzare insomma i risultati ottenuti da questo da questo percorso da questo percorso fatto con appunto con me con il tirocinante i risultati che sono stati raggiunti volevo fare alcune domande specifiche sul suo ruolo di preparatore atletico come ha accennato anche preparatore atletico fa parte di uno staff tecnico con cui il confronto è giornaliero nella sua esperienza attuale il portodascoli ha avuto difficoltà nel proporre il proprio lavoro il confronto è giornaliero quotidiano come allora in questa esperienza non non ho avuto difficoltà anzi il confronto è sempre giornaliero con l'allenatore principalmente che responsabile appunto del di tutto lo staff quindi della prima squadra e perciò noi inizialmente effettuiamo una programmazione magari del micro ciclo all'inizio della settimana per poi sentirci giornalmente per eventuali modifiche o per eventuali aggiornamenti appunto per poi pianificare anche a lungo termine ma appunto in questo periodo non è stato molto semplice perciò per noi il confronto è giornaliero quindi mi sono sempre sentito a mio agio è libero di proporre tutto quello che potevano essere i mezzi più consoni con i contenuti più adeguati e ci siamo trovati sulla stessa sulla stessa linea oltre a far parte dello staff tecnico il preparatore atletico sappiamo il preparatore fisico è la figura che più si confronta con lo staff sanitario lo staff medico per valutare come ha detto lei la disponibilità giornaliera del giocatore o eventuali problematiche del giocatore o il recupero di giocatori che rientrano da infortuni come ad esempio appunto il caso 3 levo chiedere come è visto questo rapporto? c'è una divisione tra il recupero fuori dal campo e il recupero in campo o c'è appunto un continuo confronto con lo staff medico? dipende molto dallo staff medico quest'anno mi sono trovato molto bene con lo staff medico perché comunque sia è stato sempre molto concreto e disponibile inoltre riusciva a spaziare diciamo oltre la parte riabilitativa alleggerendomi in un certo senso il lavoro quindi nella prima parte della rieducazione lo staff tecnico in eccellenza non è che ha più preparatori quindi in questa situazione è stato importante quindi un primo quadro clinico da parte sua e in questo caso fisioterapista perché era composto dal fisioterapista e la prima parte rieducativa perciò noi ci sentiamo sempre quindi giornalmente anche con il fisioterapista e per me è stato importante perché comunque sia anche l'organizzazione che non sempre si trova in queste categorie dove appunto la sua disponibilità nel giorno post gara nel periodo che precede l'allenamento spesso anche disponibile durante l'allenamento quindi per qualsiasi tipologia di imprevisto è stato importante inoltre anche la possibilità di effettuare in maniera rapida esami diagnostici per appunto darci una panoramica istantanea rapida di quello che potesse essere la problematica perciò da questo punto di vista è stato molto un rapporto molto diciamo continuo e mi sono trovato bene e le faccio un'ultima domanda se c'è da fare delle eventuali annotazioni preventive sulla preparazione, la strutturazione e la strutturazione dei lavori svolti però bene o male abbiamo discerato tutti gli argomenti in maniera chiara se c'è alcune annotazioni specifiche noi diciamo che per quello che riguardava l'aspetto neuromuscolare eseguiti di forza non avendo una palestra quindi non predisponendo di sovraccarichi ci siamo basati molto sull'apesistica raccata quindi tutto quello che potesse essere esercizi funzionali a corpo libero o con l'utilizzo di piccoli attrezzi come palle medico, bilancieri comunque non con carichi elevati per lo sviluppo della potenza e per andare a simulare quei movimenti o di pesistica adattata o comunque funzionali a quello che a nostro avviso potesse essere utile quindi rotazioni magari cambi di direzione tutte queste diciamo dinamiche specifiche per lo sviluppo della potenza in maniera con movimenti rapidi e con trazioni con velocità massimali per il resto penso che abbiamo detto tutto ci siamo anche confrontati appunto per quello che riguardava i dati anche con quello che poteva essere la performance grazie all'utilizzo di GPS che ci hanno permesso anche di mettere a confronto quello che potevano essere i risultati dell'allenamento con la media gara la media partita che è il parametro che ci interessa a più di tutti allora la ringrazio per questa intervista e poi ci confronteremo dopo analizzando le risposte appunto avute dai diversi dati e i risultati ottenuti grazie ok grazie ciao ciao